La neuromielite ottica è per tanto tempo stata considerata una variante della sclerosi multipla. Già nel 2004, per la prima volta, compare il concetto che invece questa patologia è un'entità a sé stante perché è dedicata allo sviluppo di un particolare anticorpo che ha un ruolo patogenetico nella malattia. Tutto questo ovviamente ha portato ad una serie di avanzamenti e alla possibilità che per queste persone ci siano oggi delle terapie molto più specifiche in grado di agire sui meccanismi della malattia. La malattia colpisce essenzialmente il giovane adulto, diciamo più adulto rispetto alla sclerosi multipla, di solito l'età leggermente più avanzata, prevalentemente le donne rispetto agli uomini, più ancora di quanto non accada nella sclerosi multipla. La malattia interessa prevalentemente il nervo ottico, il midollo spinale, ma anche altre strutture del sistema nervoso possono essere implicate. E cosa si può fare con le terapie? Già da anni utilizziamo terapie fino ad ora utilizzate off-label come rituximab che sono in grado di rallentare la malattia in maniera importante e di bloccare a volte anche in maniera definitiva la comparsa di nuove ricadute. Oggi abbiamo a disposizione ulteriore nuove terapie come quelle che agiscono sul recettore di interleuchina 6 o quelle che agiscono sul complemento che hanno dimostrato nei trial clinici una riduzione del rischio di ricadute addirittura del 70-90% in questi pazienti.